Ti sei mai chiesto quanti e quali snodi debba avere una rete ad oga in movimentazione elettrica? Dal numero degli snodi e conseguentemente dalle sezioni dipende la complessità del piano di rete. Quanto maggiore sarà il loro numero, tanto più ti potrebbe risultare confortevole durante la movimentazione ed il riposo. E questo perché seguirà meglio i naturali movimenti del tuo corpo. Tuttavia c'è anche chi per esigenze personali si trova meglio su un letto con un numero minore di snodi. Quindi ora non andare subito a cercare la rete con più snodi possibile anche perché una rete letto per essere completa ha bisogno di soli 4 snodi e 5 sezioni. Certamente le reti con movimentazione con meno snodi rispetto ai canoni C4 saranno di solito anche le più economiche per via della minore complessità meccanica. Ma cosa sono gli snodi e la rete? Allora gli snodi sono semplicemente i punti di congiuntura mobile tra le varie sezioni della rete. Un po' come se fossero le cerniere delle ante. Gli snodi permettono la movimentazione nella zona schienale di quella delle gambe. Le sezioni sono invece le aree dove sono applicate le doghe che si muovono proprio grazie agli snodi. Un po' come fossero le ante, tanto per rendere l'idea. Attenzione dunque a non confondere gli snodi con le sezioni perché vedo che qualcuno fa ancora questo errore banale, dichiarano le reti a 5 snodi, che in realtà ne hanno 4 perché confondono gli snodi con le sezioni. Per esempio tutte le mie reti a doghe sono composte da 4 snodi e 5 sezioni. Vediamo un po' quali sono queste sezioni e a cosa servono. Dunque partiamo dalla testa dove troviamo la sezione cervicale che serve per sollevare solo la testa e si alza prima che intervenga la sezione di sollevamento della schiena. Di conseguenza sollevando la zona della schiena si otterrà prima la movimentazione della zona cervicale. A seguire proseguirà la movimentazione di tutta la schiena. La sezione dedicata alla schiena poi può essere accessoriata di ammortizzatori. Possono essere a piattelli oppure a molla per dare un maggior comfort nella sezione delle spalle. Più giù possono essere presenti anche dei regolatori per la lordosi lombare. Non sono indispensabili ovviamente. La sezione centrale del bacino è l'unica a rimanere fissa e dalla parte equipaggiata da cursori oppure anelli per la regolazione della rigidità lombare. Proseguendo verso le gambe incontriamo la sezione di alzata delle gambe o femorale e troviamo ulteriori snodi per il sollevamento di questa zona. Il sistema di movimentazione a 5 sezioni e 4 snodi è attualmente tra i più completi e utilizzati e non considero a mio avviso la possibilità di un miglioramento del comfort nell'eventuale adozione di un maggior numero di snodi sempre che esistano. Esiste in commercio invece qualche rete elettrica a doghe solitamente di tipo più economico ma sono poche per la verità con un numero minore di snodi. Spesso sono a 2 snodi oppure a 3 snodi e movimentano solo la schiena mantenendo fissa magari la zona delle gambe oppure movimentano la schiena e le gambe ma senza ulteriori snodi. Realizzati in questo modo ne esistono anche di tipo manuale con l'alzata tramite meccanismo a cremaliera. Nelle reti a doghe con struttura in legno per uso domestico non è prevista la movimentazione a manovella. In genere i due snodi sono una caratteristica normale per le reti a doghe con movimentazione manuale oppure per le reti a doghe con movimentazione elettrica ma di tipo un po' più economico. Molto bene io spero che ti sia tutto chiaro comunque se ti fosse rimasto ancora qualche dubbio oppure hai bisogno di altre informazioni mi puoi contattare dal sito www.savoldi.net dove trovi il blog a reti materassi e fai da te che ti parla di tutto questo e anche di molto altro oppure mi puoi chiamare al numero 0363 40703. Se il video ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace condividilo sui tuoi social mettilo nel tuo blog iscriviti al mio canale youtube. Ti ricordo che mi trovi anche in podcast sulla tua piattaforma preferita con tanti altri contenuti interessanti. Come sempre cerca a Savoldi il tuo falegname di fiducia. A presto!